Calcio di rigore. L'arbitro, il signor D'Antuono della sezione Aia di Pescara ha decretato il calcio di rigore a nostro favore. Ci troviamo già 2-0. 3-0 per la Virtus Castelfrendano. 3-0, allora a questo punto le porte degli play-off si sono aperte. E' vero Presidente che le porte dei play-off si sono aperte adesso? Sì, è a posto. Ecco i fumogeni della gioventù Castellina. Bravo. Grazie.